sai mi sono spesso trovata a riflettere sul fatto che di solito sappiamo poco o niente dei nostri genitori esistono da prima di noi e questo ci basta difficilmente abbiamo curiosità o voglia di far domande di loro in particolare nell'adolescenza vediamo soprattutto le mancanze i difetti senza essere minimamente sfiorati dal pensiero che quegli stessi difetti un giorno saranno i nostri non ci viene in mente di chiedere loro chi erano davvero prima di metterci al mondo in qualche modo i genitori sono una sorta di fondale dipinto di una scenografia non sembrano aver avuto una vita indipendente dalla nostra e più la famiglia è chiusa più è riservata più queste domande diventano impensabili soltanto dopo il matrimonio avevo iniziato a interrogarmi su chi fosse veramente mia madre su che uomo fosse mio padre ma ero così presa dalla mia vita che non avevo avuto il tempo di immaginare le domande anche perché in fondo rimaniamo sempre un po bambini e l'illusione che i genitori siano eterni ci accompagna fino al giorno del loro funerale quando sgomenti davanti a quella barra chiusa per sempre scopriamo che non potremo più chiedere loro nulla